Questo è il mio secondo giro, ho incontrato le comunità Arbrecht nella provincia di Crotone, oggi incontriamo le comunità Arbrecht nonché colleghi sindaci qui in provincia a Catanzaro. L'obiettivo qual è? È quello che la fondazione che riprende la sua funzionalità, quindi inizia ad operare finalmente dopo 14 anni di blocchi e inizia ad incontrare le comunità Arbrecht, chiamiamole così minoritarie ma non lo sono, per portarli a un progetto comune che è quello di stare insieme. Bashki e Mimutfort, insieme siamo più forti. Questo è il progetto che io ho l'incarico di portare avanti come commissario della fondazione, di far stare insieme le comunità dell'Arberia, di incontrarci e di progettare insieme, soprattutto economia, soprattutto economia perché l'economia voi sapete bene, attraverso l'economia si sviluppa tutto, quindi si sviluppa una macchina che darà sbocchi a qualsiasi cosa, iniziando al turismo, il turismo ovviamente è un turismo culturale, un turismo della nostra storia, delle nostre radici, ma darà anche la possibilità di avere uno sviluppo economico turistico, quindi esperienziale, che farà conoscere alle nostre comunità quello che abbiamo rappresentato in questi cinque secoli. Sì, oggi presenteremo anche questa iniziativa, infatti questi ingondri sono dovuti soprattutto ad organizzarci perché per la prima volta nella storia degli Arbresh l'Ambasciata italiana ha indeso congederci un giorno dedicato interamente all'Arberia, all'Arberia che sarà rappresentata nei migliori dei modi, non solo dalla fondazione ma dalla partecipazione di tutti i comuni, nonché dalla presenza delle nostre autorità regionali, quindi l'assessore, il consigliere delegato e speriamo anche la presidenza della regione. Questo perché? Perché attraverso questo evento che si farà in Piazza Italia, in Albania, noi documenteremo a tutti i presenti quelli che sono le nostre radici, quella che è la nostra storia, ma soprattutto cercheremo di creare sinergie di tipo economico e culturale. Assolutamente sì, felicissimi di accogliere qui il commissario Ernesto Madeo, la sua struttura che si occupa appunto, come dicevi, di valorizzare quella che sono la cultura, la tradizione Arbresh presenti nella regione Calabria, in questo caso nella provincia di Canzaro. Noi qui abbiamo i sindaci di importanti comunità, ci sono delle tradizioni, delle culture che negli anni sono stati capaci di rispettare e di valorizzare. C'è bisogno di vicinanza, c'è bisogno di fare rete, c'è bisogno di costruire percorsi di formazione, di valorizzazione comuni. Le istituzioni devono fare la propria parte, la regione, qui il commissario, è qui appunto ad organizzare questo percorso. La provincia, nonostante le funzioni che a seguito della famigerata del Rio, sicuramente non vedono queste tra le priorità principali, comunque è qui a fare la propria parte, perché appunto la valorizzazione culturale è un aspetto importante. Poi ci si rivolge a una parte geografica europea che è quella naturale, l'invocazione dei nostri territori. Parliamo del Mediterraneo, parliamo dell'Adriatico. Molto spesso ci spingiamo culturalmente ormai forse da spinte economiche verso il nord d'Europa. In realtà le nostre tradizioni vengono da lì, vengono anche tanti problemi che dobbiamo gestire, ma anche tante cose positive che ci appartengono e con le quali dobbiamo riuscire ad essere capaci di accompagnare in questo percorso positivo.